Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Cari amici, bentornati all'appuntamento col meteo di TV6. Nel corso di questo venerdì ancora l'alta pressione nordafricana continuerà a interessare il Mediterraneo centrale, apporterà a condizioni meteo tipicamente estive. Tuttavia avremo anche la possibilità di temporali pomeridiani, tutto questo in montagna, sulle colline da nord a sud. Non escludiamo anche dei fenomeni molto intensi sull'Apenino centrale tra Marche, Abruzzo, Umbria, Molise, Lazio e Campania, con delle grandinate e forti raffiche di vento in Abruzzo. Abbiamo avuto pertanto una nuova giornata dai due volti al mattino, tempo stabile, cielo sereno ovunque, anche clima relativamente caldo. Poi nel pomeriggio si svilupperanno questi temporali improvvisi negli arei interne, quindi in particolar modo sui monti, ma localmente anche sulle colline, nel Terramano, anche nel Pescarese. Fenomeni localmente intensi nelle aree più interne, quindi al ridosso dei rilievi, il tutto durerà qualche ora, poi in serata graduale cessazione dei fenomeni. Temperature stazionarie con massime non oltre i 29-30 gradi. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. A tutti voi una buona giornata. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.